E' stato scritto dal grande Bruno Lanfranchi, ricordate chi era Bruno Lanfranchi che tra l'altro l'anno prossimo sarà vent'anni che ci ha lasciato, è il racconto di due donne che si trovano, una delle quali è andata, l'avrete sentita tantissime volte sicuramente, una delle quali è andata a trovare il suo bambino, il suo figlio che è a militare e infatti il titolo è Al me putem soldè, mi fa piacere perché uno signore qua davanti dice è bello, spero che le piaccia anche letta da me. Al me putem soldè. Ebbene, miracole, il mondo si stede che le 3D cantano e sono stede che era il mio pute. In dove? Esti me te? Ma che ho detto, il bebé cantatore, mi fio il dov'ico che le inti soldè e mi lascia che la sua immesa una muccia e i bargnocchi poveri che il gaipe è tutto pieno. E sentmelo che te? Eh, ma ti bombe immagini. Ma no, è fuori ad Edmander. E appena che sono arrivati in caserma e branca il princano, capite il tiro e dico, senti o metto. E lo svolta e mi fa, signora, io sono un ufficiale, non le vede le gradi. Eh, ma mine sarebbe mica che fosse un tutto gradue per il termometro. E dico che mi scusasse tanto, capitanio, non sono capitanio, io sono solo dei niente. E che mi scusasse un'altra volta, che abbia pazienza. Ma io, e drighi e strisli, e niente ne intendi mica. Cosa desiderasse? E sono appena rivedete per me, sono stracca morte, bagna moia del sudore, e sono niente a cattare il mio potere. Guardate, signori, che questo non è un asino infantile, questo è una caserma. E vorrei vedere in costa, mi fiole che erano lì, le due metri. E per me tutti hanno conosciuto. quando l'ignuto il soldato, le stesse io che erano messe per me, hanno dovuto spostare il treno, per far passare la gente, perché gli avremmo salutare. Ho capito. E a Militari qui, come si chiama? Esciame, Dovico Pighedolse. Modnom, estrenom, dicono, è dur. Perché? E stravottente? No, perché l'ha fatto la quarta elementare a sesani e tre fila. E il po' si è vedo. Bisogna attendere la tromba per la libera uscita. Ma pensa che è blessa? Ma cos'è il molli? E tempe di musica? Ma mi ringrazio tanto che erano le mie tenete. Ma mi vede il volontario anche senza musica via su, che mi fa che vedo solamente per un minuto per piacere. E va bene. Solo per un minuto. Siamo d'accordo? me lo voglio. In dove? È laggiù a fare la guardia. E se no? Ma sento col me diesel, me potenti guardi. E pensare che a per me io ho fatto 2.000 mandi in mo' per fare il torino di guardi. E ne glomè che vede. E che il dica è? E non fa di contraddizio? Ma la signora di guardia vuol dire di sentinella. È là in fondo a quella strada dentro una garitta. Ma che bagaglia è? Un gasotto di legno come questo. Un bagaglia con paio? Ma costa che l'impisatore. Cos'è un po' più grande? Chissà che pagherà da stare qui al mio potere. Signora, vada e si speci. Insomma, l'epoca è te. Ma aspettate un minuto. Un amico avrò presso anche te. E mi invico per la strada che era quasi scura e va e va. Quando sono riveduto qui, mi sono adressato per tirare il fiè e sento le voce dei miei fiori che sbrai e dice, chi va là? E io ho saputo che mi resta un po' in se cosa. Poi sono rinfrancato e sbraiato. E tu metri! E tu senti come risposta? Taffa! Le proprie caghe spudere, le proprie tue fiori, tappi mariane! Grazie anche al grande Bruno Lanfran che ci ha lasciato questi scritti molto importanti del nostro dialetto.